Ciao! Ciao Jades Family! Come state? Tutto ok? Io spero di sì! Oggi c'è un nuovo video saluti! Dove saluterò alcuni di voi, ovviamente chiedo scusa a tutti gli altri, ma è un po' difficile salutare tutti quanti perché siete veramente tantissimi che me lo chiedete, ma piano piano cercherò di accontentare un po' tutti quanti voi. Allora, iniziamo! Per favore, mi saluti, sei fantastica! Grazie mille Angela, sei un amore! Ciao! Fashion Girl! Ciao, scusa se non l'ho visto prima, ma solo che ero occupata con la scuola. Non fa niente se non vedete i video subito, potete sempre vederli in qualsiasi momento, lo so che siete impegnati con la scuola. Comunque tu sei fantastica, meravigliosa e intelligente perché spieghi tutto il tuo tempo per fare questi video, per farci divertire. Ti ringrazio tantissimo, tesoro, ma tu non mi devi ringraziare. Io queste cose le faccio perché le amo, amo fare i video, amo fare queste cose per voi. Tranquilla, comunque grazie per i complimenti. Mi potresti salutare nel tuo prossimo video, per favore? Ma certo, ciao Fashion Girl! Grazie mille! Giada non mi saluterà mai e per questo sono triste. Se puoi, con una foto di Jim o una di Malena, l'attrice di Delphi. Ma no, non essere triste, come vedi ora ti ho salutato. Ciao, me contro te forever love! Mi puoi salutare, ti adoro, sei meravigliosa. Mi chiamo Sofì. Ciao Sofì, grazie mille! Mi puoi salutare nel prossimo video? Ciao Chiara Papagna! Ciao! Ciao Giuse, mi puoi salutare in un video, sei bravissima! Grazie mille, Rossella! Grazie, ciao! Saluti, mi chiamo Alessia. Ciao Alessia! Bene ragazzi, il video saluti finisce qui! No, scherzo, non finisce proprio qui. Perché ora risponderò a una domanda, anzi non è una domanda, sono 3000 domande, che mi ha fatto questa ragazza ammarica. Fantastico, specialmente il fatto che ora possiamo vedere anche le tue mani. Yeee! E domanda fatta da me. E domande fatte da me, allora, sono molte. Eh, ho notato! La vita è su un sogno o chedete? La vita è su un sogno. Luna o Matteo? Luna. No, scherzo, tutte e due. Lutteo. Simbar o Pelfi? Simbar. Uno, due o terza stagione? Seconda. Chedete o Solos? Chedete. E poi domanda a caso, ma importantissima. Lasagna o pizza? Mmmmm. Eh, è molto difficile. Comunque, pizza. Spero che tu mi risponda, TVB. Ti voglio bene anch'io. E poi scusami tanto, ma non so bene cosa consigliare sugli slime. Comunque, ultima domanda. Preferisci l'amicizia di Luna e Simone o l'amore di Luna e Matteo? Hola, domani. Ciao. Hola. Comunque, sugli slime ci sto ancora lavorando. Presto vedete dei video sugli slime. Non me ne sono dimenticata. Comunque, io preferisco l'amore tra Luna e Matteo. Nonostante mi piace tantissimo l'amicizia tra Luna e Simone. Però preferisco l'amore tra Luna e Matteo. Ditemelo se ve la pensate anche voi come me. Comunque, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video saluti. Oppure un altro Ask Me 2 dove rispondo alle vostre domande. Scrivetemi qui sotto altre domande. Ah, e seguitemi su Instagram. Mi chiamo Jade C. Official. Se non avete Instagram, ditelo ai vostri amici. Perché quando arriverò a 100 follower su Instagram farò una diretta dove finalmente potrete vedere come sono fatta e chi sono. Un bacione. Ciao Jade's Family.